E' aperto da circa un anno l'Emporio della Solidarietà di Negrardi, Valpolicella, situato nel centro del paese, in un edificio completamente ristrutturato ed è intitolato a San Giovanni Paolo II. Come mai un Emporio della Solidarietà a Negrardi? Beh intanto l'esperienza dell'Emporio non nasce improvvisata ma affonda le sue radici nelle varie caritas parrocchiali che da tempo sono presenti sul nostro territorio e nelle nostre parrocchie. La cosa bella di questa iniziativa è che l'Emporio è il frutto di una sinergia di intenti di tutta l'unità pastorale e quindi tutte e nove le parrocchie, quindi Arbizzano, Santa Maria, Negrar, Fane, Prontorme e Mazzano del comune di Negrar più le parrocchie di Pedemonte e Casterrotto del comune di San Pietro in Cariano che però queste due fanno parte della nostra unità pastorale. Quindi la cosa bella è proprio mettere insieme le forze di tutte e nove le parrocchie per la realizzazione di quest'opera che sempre di più sembra essere la risposta più adeguata al modo di fare la carità nell'oggi del nostro tempo. Le risorse dell'Emporio sono in primo luogo i volontari e le volontarie, circa una sessantina che accolgono e accompagnano le persone che arrivano per fare la spesa, non solo per dare loro dei beni di prima necessità ma anche per aiutarli a scegliere responsabilmente il cibo da mettere in tavola. Perché hai deciso di fare il volontario qui? Ho deciso di fare il volontario su proposta della parrocchie di Negrar, ancora Don Luca Masin e quando hanno istituito le unità pastorali è nata anche questa prospettiva di aiutare le persone e allora ho detto perché ho del tempo, è giusto che questo tempo che non vada sprecato, almeno serve qualcosa insomma. Quando è aperto l'Emporio? L'Emporio è aperto il sabato mattina e qualche volta, circa una volta, qualche volta due, il venerdì pomeriggio. Quanti sono i volontari che ruotano attorno a questa attività? Allora sono circa una sessantina, una quindicina sono quelli del centro di ascolto e gli altri sono quelli che stanno nel magazzino, che stanno alla cassa, che accompagnano gli utenti nelle corsie e quindi è un buon numero. Perché le persone vengono sempre accompagnate? Sì, è necessario perché appunto avendo questi punti a loro disposizione per fare questa speciale spesa, l'accompagnatore deve un po' vigilare sulla quantità dei pezzi dei vari prodotti e aiutarli anche magari a scegliere in base alle loro necessità e al loro nucleo familiare. Domenica 13 novembre si è tenuta la sesta giornata mondiale dei poveri. Con questo emporio, il tredicesimo del territorio veronese di Caprino, la Caritas in rete con altre associazioni, le parrocchie e tante persone di buona volontà, esprime la possibilità di dare alla gente un aiuto concreto che non si sostituisce alle persone in difficoltà ma che punta alla loro autonomia. Cosa vuol dire rispondere oggi ai bisogni dei poveri? Non è facile rispondere a questa domanda perché la prima risposta che ci verrebbe da dare è quella di dare, dare da mangiare che è una delle prime necessità, dare da vestire che sono cose giustissime, è vero? Le opere di misericordia corporale ci vengono ricordate da Gesù stesso. Però è altrettanto vero che fare la carità oggi è un guardare alla persona, a tutte le sue necessità e quindi un accompagnare. Infatti il centro di ascolto, l'emporio, è supportato dalla presenza di un centro di ascolto fatto da circa 15-20 persone che accolgono le persone che fanno richiesta di qualche necessità, ascoltano i loro bisogni e siamo supportati in questo dalla Caritas Diocesane, da tutto un sistema di strumenti che loro ci hanno offerto per poter capire la realtà dei loro bisogni e quindi poi cercare di rispondere per quanto è possibile perché ovviamente anche noi facciamo quello che riusciamo. Questo è sempre fatto in sinergia con gli assistenti sociali del Comune, quindi c'è un dialogo continuo di incrocio dei nostri dati con loro per poter agire in una comunione di intenti senza fare doppioni o andare avanti in maniera disordinata. E anche in base a una buona alimentazione. Ad esempio qui vedo frutta e verdura punti 1, che è poco. Esatto. Allora si punta sempre a un regime alimentare corretto e sano e quindi la frutta e la verdura è alla base di una buona alimentazione. E poi ecco per esempio bevande tipo alcolici assolutamente non sono in emporio e anche altro che non è necessario. Diciamo che appunto la dieta è quella indicata dalla buona alimentazione insomma. Quindi anche loro imparano a gestire i loro prodotti, i loro beni. Sono tante le persone che vengono qui? Di solito vengono 20 famiglie, circa una ventina di famiglie per turno perché noi le abbiamo divise a turno. In qualche altro emporio fanno in un'altra maniera però sono gestioni particolari. magari so che a San Giovanni si aprono molto di più rispetto a noi ma c'è il territorio là un po' più grande. Quanto è importante per queste famiglie poter venire qui all'emporio? Ma le prime volte venivano con un po' di sospetto. Comunque prima quando ricevevano la borsa della spesa, infatti tutte le prime volte venivano voglio la borsa della spesa. Hanno capito che questa non è una borsa della spesa perché i prodotti che c'erano dentro erano stabiliti da chi preparava la borsa. Invece qua scelgono. Per sostenere le attività dell'emporio sono stati posizionati alcuni contenitori di raccolta di beni alimentari nelle chiese dell'unità pastorale dove la gente può contribuire con generosità. Inoltre ci sono anche iniziative nelle scuole per sensibilizzare gli alunni all'attenzione agli altri. Perché poi l'obiettivo è quello dell'autonomia. Cioè chi viene all'emporio non ci verrà per sempre. Il sogno è quello. E cioè che in un ascolto, in un dialogo che viene fatto non una volta per sempre ma in maniera periodica, di solito ogni 5-6 mesi, in modo da poter piano piano rendere autonome le persone. E in molti casi questo è accaduto. La storia di altri empori, il nostro è ancora neonato, la storia di altri empori ce lo testimoniano, che addirittura poi qualcuno non solo smette di venire ad attingere all'emporio ma addirittura entra a far parte come volontario o addirittura in alcuni casi c'è una logica di restituzione di quanto la provvidenza a suo tempo aveva, lui aveva beneficiato.